La fotografia degli stili di vita, della salute e dei rapporti sociali delle adolescenti toscani dello studio HBSC è stata presentata dall'assessore alla salute Stefania Saccardi e dal professor Giacomo Lazzari dell'Università di Siena. Dall'indagine è emerso che più di un adolescente su dieci è in sovrappeso, due su dieci non fanno colazione, nella loro alimentazione c'è poca frutta e verdura, ma bevono meno bibite e zuccherate. Solo uno su dieci fa attività fisica quotidiana. Diciamo che negli ultimi decenni sono rimaste abbastanza stabili sia i comportamenti meno salutari, un po' il non fare la prima colazione forse è la cosa che è più eclatante, in particolare per le femmine rispetto ai maschi, circa tre su dieci non hanno la capacità di fare questo primo pasto che è fra i più importanti per gli stili di vita. Il campione toscano è composto da 3.083 studenti di 186 classi, ragazzi tra gli 11 e 13 anni che frequentano le scuole medie. Le informazioni sono state catalogate attraverso questionari anonimi. Questo è un progetto che è promosso dal Ministero della Salute e servono naturalmente a fare la programmazione e a decidere dove ci sono le priorità di intervento e quindi dove anche le risorse e le azioni debbano trovare un primo punto di lavoro e di investimento. Per quanto riguarda i comportamenti a rischio resistono il fumo, l'alcol e il gioco d'azzardo. Un adolescente su dieci fuma spinelli. Meno di un giovanissimo su dieci ha detto di essere stato vittima di bullismo. Meno di un giovanissimo su dieci ha detto di essere stato vittima.